Percam da sempre attenta all'ambiente per questo d'oggi attivo un nuovo servizio di trasporto groupage per la nostra clientela che punta ad azzerare le emissioni nel ciclo well to wheel l'abbiamo chiamato zero emissions groupage la prima linea di trasporti groupage a zero emissioni nel ciclo well to wheel vede come protagonisti diversi veicoli veico il primo è l'idelli il del di sempre semplicemente elettrico alimentato da impianti fotovoltaici e fonti rinnovabili perfetto per la città poi abbiamo il daily alimentato a bio cng sempre per la distribuzione urbana e suburbana e infine l'iveco e sway bio energy e bio cng per i collegamenti tra le filiali fercam un vero e proprio campione di sostenibilità il vero punto di forza di zero mission groupage è un servizio in grado di ridurre drasticamente le emissioni combinando più fattori contemporaneamente i veicoli i carburanti e le fonti di energia rinnovabile le strutture stesse delle nostre filiali di intrascambio è un progetto ambizioso sul quale fercam lavora da tempo diventato realtà anche grazie alla stretta collaborazione dei nostri partner i veico ed edison oggi ed energia è il leader nella commercializzazione di biometano gassoso per il 2023 si parla di circa 100 milioni di metri cubi all'anno che saranno resi disponibili su richiesta in circa 300 stazioni di rifornimento in tutta italia per quanto riguarda il bio gnl nel 2023 si parla di 3000 tonnellate all'anno la collaborazione avviata con fercam ci riede impegnati nella fornitura di biometano e bio gnl presso alcune stazioni di rifornimento individuate congiuntamente dove si andranno a rifornire i mezzi di fercam attraverso l'utilizzo poi della carta carburanti edison card riusciremo a supportare in modo efficiente fercam nella contabilizzazione dei consumi di bio gnl dei propri mezzi siamo onorati di essere al fianco di partner con i quali condividiamo gli stessi valori per creare un'offerta integrata che coinvolge veicoli ed infrastrutture per un trasporto sempre più sostenibile grazie a questo approccio pioneristico oggi siamo in grado di supportare i nostri partner fercam ed edison nella decarbonizzazione di intere tratte della filiera logistica con fercam stiamo poi ovviamente lavorando per estendere la collaborazione e replicare questo modello di mobilità sostenibile presso altre loro sedi partendo dalle due di milano e roma che sono quelle interessate da questo bellissimo progetto la prima linea groupage a zero emissioni attiva tra le città di roma milano attraverso le nostre piattaforme distributive di roma e dirò via boiardo con cui saremo in grado di certificare le effettive riduzioni delle emissioni questa prima esperienza ci fornirà i dati che ci guideranno per i successivi collegamenti che attiveremo nel tempo il nostro zero emission scopage punta a zerare totalmente le emissioni e rappresenta un modello fortemente scalabile per offrire alla clientela una copertura sempre più ampia e capillare di un servizio che ha come priorità il trasporto merci a impatto zero